Ecco cosa possiamo fare noi, ed ecco Gino, ed ecco Gino, Gino ti vede qualcosa? Ecco questa è via Madonie, si ci può nuotare, alza di Gino, fatti vedere! Un folle, disperati siamo! Gino vedi che ti può venire qualcosa, la broncopolmonite! Alzati! Grazie, grazie all'amministrazione! Abbiamo anche l'acqua d'inverno, grazie, grazie! Non dobbiamo pagare niente, quelli due figli non devono pagare niente, perché siamo combinati così, avete capito? Così siamo a moto! Grazie alla tua macchina? Allagata! Allagata, è la tua casa? Allagata! Sì! Purtroppo! Almeno prenderanno qualche peggio! Così! Ti dobbiamo pagare! Così! Ti dobbiamo pagare! Ti dobbiamo pagare! Sì, 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 sì.